La prima al Bonolis del Teramo vede il diavolo ritrovare il gusto di una vittoria interna che mancava dallo scorso aprile. Ma il 3-2 con il quale la squadra di Antonino Asta ha avuto la meglio di un Ravenna che sembrava già essersi lasciato abbondantemente alle spalle. I cinque schiaffoni rimediati non più tardi di una settimana fa contro la Triestina non è stata affatto semplice. La gara e i biancorossi la impattano bene con Ilari prima ma soprattutto col solito Lorenzo De Grazia poi. Gol per il centrocampista che sembra spianare la strada ad un pomeriggio più semplice di quanto si rivelerà poi con l'andare dei minuti. Perché la squadra di Antonioli sull'altro fronte riesce ad impattarla subito con l'Euro-Gol di Samb, una sventola imparabile e che sembra riportare il Teramo indietro di qualche mese. Il diavolo di quest'anno però sembra avere un animo e uno spirito diverso da quello passato. Con pazienza si rimette in moto, il tridente ha ancora qualche piccola difficoltà ma nella necessità ci pensa Ivan Speranza a riconsegnare il vantaggio agli uomini di Antonino Asta. Curiosità, proprio quel primo aprile Teramo-San Benedettese fu deciso all'ultimo istante da una rete del capitano biancorosso. Il vantaggio ridona l'Infe fiducia al Teramo nonostante Ravenna non stia affatto a guardare né con Maestrello che al Bonolis aveva già colpito né con il neoentrato De Sena. Ma quando le cose si fanno difficili, ecco che Speranza sfodere un salvataggio che nel computo complessivo vale come, se non di più, della rete siglata. La buona notizia è il primo gol ufficiale di Cirofoggio, seppur dal dischetto l'attaccante sembra, e lo mima anche, esserse scrollato di dosso quella necessità di fare gol fisiologica per qualsiasi attaccante. Il problema vero sono le pecche che ancora permangono in fase di gestione. Con Ravenna che riapre la partita nel finale proprio con De Sena e fa passare al pubblico del Bonolis qualche minuto di apprezzione. Ed è forse questo il punto su cui Asta dovrà concentrarsi maggiormente. La gestione del risultato, specie in vista della dura trasferta sul campo del Pordenone.